Salve a tutti amici di Spazitech, sono Fulvio e siamo qui oggi con la recensione di ben due smartphone. Stiamo parlando di Vivo, che è entrata da poco in Italia con una serie Y e un top di gamma, il Vivo X51, con uno Snapdragon 765, che ci è piaciuto davvero tanto. E vi ricordo di seguire la nostra recensione sul nostro canale. Ma oggi siamo qui per parlare della nuova gamma, la gamma Vivo Y, e abbiamo due dispositivi, il Vivo Y70 e il Vivo Y20S. Beh, oggi vi parlerò più che altro del Vivo Y70, dato che questo Vivo Y20S è uno smartphone di fascia economica, che sì, è abbastanza interessante, ha alcune caratteristiche che lo rendono interessante in questa fascia, con una batteria molto capiente e una memoria da ben 128GB, ma quello che mi ha impressionato in positivo è stato questo Vivo Y70, che arriva in una fascia di prezzo molto agguerrita. Stiamo parlando della fascia di prezzo dei 279€, quindi sotto la fascia dei 300€. Ma Vivo ormai ci ha abituato ad un'affidabilità, dato che sappiamo è un brand molto apprezzato nei paesi orientali, e questo Vivo Y70 nella conferma. Questo Vivo Y70 punta tutto sulla qualità, sulla robustezza, su una ottima qualità del display, ma soprattutto su una fotocamera principale. Un sensore da 48 megapixel, che ormai abbiamo imparato a conoscere, come per esempio sul OnePlus 7, sul OnePlus 8, risulta sempre lo stesso sensore, dato che sappiamo che la casa madre di tutte queste case è sempre la BBK Electronics. E questo Vivo Y70 ha una fotocamera che reagisce davvero molto bene, in quasi tutte le condizioni di luce, soprattutto migliorando quello che è il reparto video, dato che in questa fascia di prezzo forse è uno dei cellulari che gira meglio la parte video, non contando naturalmente i pixel di media fascia, che comunque costano un pochino in più. E riesce a girare i video a full HD a 60 fps davvero molto validi, ma non è solo questa la sua caratteristica principale. Andiamo a scoprirne tutte le caratteristiche e come si è comportato nel nostro rizzo quotidiano, questo però dopo la nostra sigla. Eccoci più da vicino per analizzare i nostri due smartphone. Partiamo forse da quello meno interessante della famiglia, il più economico, il Vivo Y20S. Andando ad unboxare il nostro smartphone, ritroviamo all'interno un caricatore rapido da 18W e un cavo USB-MicroUSB e un paio di cuffie compatibili con l'uscita jack audio, dato che entrambi gli smartphone avranno l'uscita jack. Purtroppo il cavo USB è ancora microUSB e questo nel 2020 risulta ancora un pochino anacronistico, ma parliamo comunque di un cellulare abbastanza economico. Ma andiamo a vedere più da vicino questo smartphone. Questo smartphone si presenta con una cover realizzata in plastica, diciamo poco curata, ma la costruzione è comunque ottima e non ci sono scricchioli. Il dispositivo arriva con un sensore laterale per le impronte digitali che è davvero molto veloce. E io continuo a preferire alcune volte un sensore fisico rispetto ad un sensore sotto il display. Dipende anche dalla fascia di prezzo, dato che alcuni sensori sotto il display continuano ad essere abbastanza lenti. Parliamo quindi di questo smartphone. Questo smartphone è pensato per un utente che ha poche pretese. Pesa 192 grammi, dovuto anche al fatto che è presente una batteria da ben 5000 mAh, ha un display IPS LCD HD+, e tutto è mosso da uno Snapdragon 460 con 4 GB RAM e una nota positiva su 928 GB di memoria interna e MMC, quindi non memoria veloce. Purtroppo questo smartphone arriva con una connettività completa, ma manca l'NFC ed alcune bande di aggregazione del 4G+. Questo smartphone arriva poi con una fotocamera frontale da 8 megapixel di discreta qualità e tre fotocamere posteriori, di cui una principale da 13 megapixel e due, purtroppo abbastanza inutili, macro e una per l'effetto bokeh. Il sensore da 13 megapixel, parlandone abbastanza rapidamente, fa foto abbastanza scarse con poca luce e con tanta luce le foto continuano ad essere poco sufficienti. Ma per chi è pensato questo smartphone? Il software è ben gestito, entrambi i cellulari arrivano con la nuova Funtouch OS 11 che è molto vicina ad Android Stock, ma con delle simpatiche ma anche molto utili implementazioni che Vivo ha implementato in questo software. Diciamo che Vivo ha lavorato molto bene l'autosoftware su tutta la sua gamma Vivo per arrivare in Italia, dato che noi siamo abituati, anche chi è appassionato, ha provato qualche Vivo proveniente dalla Cina e la Funtouch OS era abbastanza inutilizzabile per il mercato occidentale. Questo smartphone diciamo che si può sintetizzare per chi non ha molte pretese, per chi vuole un software comunque affidabilissimo e anche abbastanza veloce, anche se lo Snapdragon 460 mostra i suoi limiti nell'apertura di app abbastanza pesanti. Ma è soplassi avere una memoria abbastanza capiente, da 128 GB, è una batteria da ben 5000 mAh che, abbinata ad un processore non tanto energivolo, ci permette di andare avanti con questo smartphone con l'autonomia anche per ben due giorni. Bene, non mi voglio soffermare tantissimo su questo Vivo YS, perché quello più interessante della famiglia Vivo Y, con cui Vivo è entrato in Italia, oltre al top di gamma con 765 Vivo X51, che abbiamo recensito sul nostro canale, voglio parlarvi di questo Vivo Y70, che è un cellulare che si trova sulla fascia di prezzo di circa 279€, ma che offre delle caratteristiche che è difficile trovare alcune volte in questa fascia di prezzo, soprattutto dal punto di vista di affidabilità e di software. Andiamo ad unboxare il nostro smartphone. L'unboxing sarà molto simile al Vivo Y20S, tranne per il fatto che questo smartphone ovviamente non arriva con una micro USB, ma arriva con una porta type C, e il caricatore non è da 18W rapido, ma è da 33W rapido, che carica circa il 60% in 30 minuti, quindi ottimo lavoro da parte di Vivo. Ma andiamo a scoprire il nostro smartphone. Anche il nostro Vivo Y70 è costruito in policarbonato, ma come potete vedere la cura nel dettaglio e anche la colorazione è veramente gestita bene. C'è una piccola stondatura e lo scalino tra scocca e display è davvero bassissimo. Questo cellulare, anche se è costruito in plastica, risulta davvero ben curato e ben costruito, dato che Vivo ormai ci è abituato a dei dispositivi di altissima qualità. Questo cellulare arriva con un display AMOLED da 6,44 pollici full HD. E abbiamo il sensore implementato sotto il display. Non è velocissimo, ma è davvero molto affidabile. Ma andiamo a vedere la scheda tecnica di questo dispositivo, che è la parte più interessante. Questo dispositivo arriva con un chip che forse non è tanto recente. Abbiamo uno Snapdragon 665 ed è tutto codiuvato da ben 8 GB RAM e 128 GB di memoria interna UFS 2.1, quindi memorie veloci. E parlando di costruzione che abbiamo detto è ottima, possiamo notare come questo cellulare è davvero molto sottile, ma oltre questo è davvero molto leggero. Pesa circa 171 grammi e in mano sembra davvero un pieso piuma. Parlando di connettività e parte telefonica, questo cellulare ha una connettività completa. Purtroppo ha l'audio mono, non ha l'uscita stereo, ma il volume è comunque molto corposo e di qualità. Ha il Bluetooth 5.0, ha l'uscita jack, ha l'uscita Type-C ed è presente l'NFC. Parlando invece di quelle che sono le fotocamere di questo smartphone, questo smartphone arriva con una fotocamera anteriore da 16 megapixel, che risulta forse una delle migliori fotocamere anteriori anche fino alla fascia dei 400€, mi ha davvero impressionato. E andando a vedere invece le fotocamere posteriori, questo smartphone arriva con ben tre fotocamere, di cui purtroppo sempre due sono abbastanza inutili, una per la macro e una per l'effetto bokeh. Però la principale è la classica fotocamera da 48 megapixel che possiamo trovare anche su OnePlus 7T, quindi una fotocamera di ottima qualità che col tempo è maturata davvero molto bene, con degli scatti molto sufficienti, ma anche sopra la media in questa fascia di prezzo, con tanta luce. Con scarsa luce le fotocamere, diciamo, riescono a cacciare fuori qualche dettaglio buono, però incomincia ad abbassarsi un po' la qualità, anche se su questa fascia di prezzo continuano ad essere delle foto molto più che sufficienti. Parlando della Fanta HOS che prima avevo accennato, questa Fanta HOS è davvero molto vicina allo stock, ma con delle chicche che Vivo ha implementato nel suo software davvero molto interessanti. Ci sono tantissime impostazioni ed il software risulta sempre reattivo e veloce, anche se il chip non è di quest'anno, quindi non un chip della serie 7, ma abbiamo un chip della serie 6. Questo grazie anche alla presenza delle memorie veloci UFS 2.1. Una pecca del display che è un AMOLED e risulta davvero ottimo, e che mantiene un bel po' di ditate, ma anche sul retro questa plastica mantiene un bel po' di ditate, ma si pulisce molto facilmente. L'unica pecca è che ha 60 Hz. Se avessero aggiunto il display a 90 Hz, questo smartphone sarebbe stato davvero ottimo. Questo smartphone arriva poi con una batteria di 4100 mAh, ma che grazie all'ottimizzazione di Vivo e grazie al processore comunque non energivoro, come lo Snapdragon 665, Questo smartphone riesce ad essere utilizzato con un utilizzo stress anche fino alla fine della giornata e arrivare con un 20% o un 30% residuo alla fine della giornata non è molto difficile. Come vi ho detto, questo smartphone risulta davvero molto interessante, perché possiamo trovare altri competitor sotto la fascia dei 300€ con caratteristiche anche ben superiori, ma qui abbiamo tutta l'esperienza di Vivo. Voi potete anche conoscerla poco come brand, ma Vivo è un brand che in Cina vende tantissimo, è quasi uno dei top al pari di Apple e Samsung, quindi questo aiuta a confermare tutte le nostre ipotesi su questo smartphone. È davvero affidabile, è robusto, è ben costruito, ha un bel display AMOLED, ha un'ottima fotocamera principale, avrei preferito anche solo due fotocamere, ma almeno l'ultrawide sarebbe stata ben accetta. Beh, un complimenti a Vivo per questa nuova gamma, è entrata in Italia con un top di gamma che non ha lo Snapdragon 865, ma che si comporta davvero ottimamente in tutti i settori, come Vivo X51, ma questo Vivo Y70 con il giusto calo di prezzo potrebbe essere un'ottima alternativa sotto la fascia dei 300€. Bene, questo era un video veloce per spiegarvi un po' la nuova teoria e la nuova fascia di prezzo che Vivo ha voluto raggiungere attraverso tutta la nuova gamma di smartphone, sia la serie X sia la serie Y. Quindi, che dire, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questo smartphone e anche del Vivo Y20S, mettete un like al video, iscrivetevi al nostro canale, noi ci vediamo alla prossima recensione.